A sushi restaurant in China, one offer discount based on league rank Motivo in più per fare il diamond, insomma Interessante Allora, Annie, zero mastery points Ottimo, così si gioca nelle ranked Bravi ragazzi Eh no, non siamo in normal, siamo in ranked questa volta Vediamo un po', live game Vediamo un po' sta Annie Famoso Yael fastidioso Questo è un GP speciale ragazzi, è un GP speciale Allora, Annie, vediamo sta Annie Commodius Dale Commodius Dale Gioca un po' di tutto e perde con un po' di tutto Interesting Guarda qua c'è una partita Top, top, mid Qua giungla, support Qualsiasi cosa Cerchiamo l'ADC Ci sarà un game da AD Carry a sto punto No, Aram Ok, peccato Ho detto, cazzo c'è pure il game da AD Ecco qua, AD Carry, basta No, questo non è AD Carry No, invece, è support È zero support Vabbè Niente, sto Commodius qua gioca a qualsiasi cosa ragazzi Ottimo Ottimo Ti ho scritto l'idea per una challenge che hai fatto ieri Ah sì? Ma me l'hai scritta adesso Ah sì, adesso me l'hai scritta Oltretutto Ho anche un progetto E' bella Calypso Bella Giorgio Giorge8 Non so come chiamarti con quegli otto Bella Nierkill Ho un progetto ragazzi E' Vi dico soltanto questo Ho chiesto ad una persona E' tranquilli, non è Mauri L'avrei chiesto a Mauri Però appunto è Mauri Di conseguenza ho deciso di chiedere a qualcun altro A livello di tempistiche E mica peraltro Non perché penso che Mauri sia incapace Anzi, Mauri è capace di fare queste cose Però ovviamente è Mauri Quindi non ci si può fidare più di troppo Ho chiesto ad una persona E' su commissione Di farmi effettivamente uno script Una specie di bot casareccio Per Twitch Dove potrò inserire le mie funzioni E creare dei comandi Diciamo customizzati Per conto mio Capito? Voi direte No Fiere che non abbiamo capito Perfetto, ve lo rispiego Prima di mente Questo tizio mi sta facendo uno script Che leggerà Dei comandi Che gli altri bot su Twitch non hanno Come per esempio Dei comandi che andranno ad utilizzare Per esempio I tasti della tastiera Esempio Stupido Stavo pensando a cose del tipo Mentre gioco League of Legends Con un certo cooldown Un comando che fate voi in chat Potrebbe attivare una spell Mentre gioco Capito? So che non è facilissimo Da spiegare Non è facile per niente Però Attualmente non c'è un bot Che vi permette di fare Questa cosa su Twitch Di conseguenza Ho deciso di far creare Questo Di commissionare Uno script appunto A sto ragazzo Che praticamente farà sì che Voi possiate interagire direttamente Con Con la mia live Ma sai già chi può farlo In che senso Bella sdruba Cioè il tizio che mi sta Facendo lo script Sì Ci ho già parlato oggi Se ne è già messo al lavoro Bella sdruba Grazie mille del sub Buonasera maestro Arriverò ai 12 mesi Per festeggiare Ecco ti un po' di Chiusa parentesi uncinata Aperta parentesi uncinata 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 Aperta parentesi uncinata È quello che penso anch'io Di uncinata, aperta, apparentesi, uncinata, chiusa, parentesi, uncinata, aperta, parentesi, uncinata, chiusa, parentesi, uncinata, aperta, parentesi, uncinata, chiusa, parentesi, uncinata. Va bene così, sono a posto, grazie sono a posto. Grazie mille. E bentornato nella Felix Army, ben tornato. Con tanto affetto. Ok. Senti, senti come pingano, senti. Arrivo! Grazie mille, sgruba comunque. Nonostante le parentesi uncinate. Aiuto! Ma perché sono tutti... Perché la dcarry in top? E siamo a 1 minuto e 20? Cos'è esattamente che vorrebbero fare? Voglio vincularli il blue buff. Vai via da lì allora. Ragazzi? Niente, Warwick ci deve andare per forza. Noob team. Who had to go? He can't resist. Prendiamolo un po' per il culo. Allora. Perché ha già così poca vita? Perché sono dei babbuini. Hanno... Hanno... Swappa... Cosa sta succedendo, ragazzi? Perché c'è Lucian lì che gi... Ragazzi, c'è Lucian qua. Cosa sta succedendo in sta partita? What? Ok. Vorrei sapere tanto cosa sta succedendo. Perché non capisco. Bella, Ian. Mentre farmi la legna. In quale dei tanti giochi in cui si farma la legna? Esattamente. Potrei elencartene tipo 50. Minecraft. Giocano time and jungle con i love leads per mangiare subito qualcuno. Capito. Agli LCS lo usano a malapena support perché fa cagare attualmente. Tutto ciò è bellissimo, ragazzi. Tutto ciò è bellissimo. Ci sono due tizi livello... Ma mi sa che stanno facendo tipo win trading questi. Questi stanno facendo win trading. Non è possibile. Fisso. Atlas comunque. Capisco, Ian. Capisco. Siamo ovviamente a W. Corriamoci, giochiamo GP. Non se può. Mi disp. Eccolo, eccolo. È partito! Ah! Te ne puoi andare da qui, grazie. Gentilissimo. La tassa. Eh, non può mai mancare. Non può mai mancare. Oh, ma do cazzo è andata? Già becca. Evidentemente. Bella buio! Grazie mille, bro del sub. E benvenuto nella Felix Army, carissimo! Oh, 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 oh. Come stai? Non finisce che tu abbia deciso di abbonarti a questo meraviglioso, stupendo canale. Vai, un punto a testo. Uno alla culo e una a W. Ricordate, un po' per uno non fa male a nessuno. Ho risparmiato pure l'Eal. E si va back. Giusti, i vocali. Ve li metto. Eccoli qua. È il vostro diritto avere i vocali, prego. Allora, health, adesso ci prendiamo. Questa roba qua. Partiamo di Visage, ovviamente. Oddio. Ma come fate ad essere al loro livello se loro non sono stati in lane? Posso saperlo? No, perché la nostra botta è in lane, mentre loro no. Però la nostra botta è il livello più basso. Cioè, è lo stesso livello. Meno l'ADC. Tutto c'è? È meraviglioso. Adesso Giancarlo è... Diciamo... Agli arresti. Però è un bravo ragazzo, comunque. Io credo quando lui dice che è innocente. Dammi il grasp. Dammi il grasp. Dammi tutto il grasp. Vai. Ti graspo tutta. Ti graspo tutta. Mamma mia se ti graspo. Vieni, vieni. Dammi il grasp. Dammi il grasp. Io sono GP, il maestro delle cure. Non hai capito nulla. Il maestro della cura. Dammi il grasp. Uddio. Uddio, no, ti prego. Dammi il grasp. Sono qui, sono qui. Ok, Bobby. Ah, datemi il grasp. Voglio tutto il vostro grasp. Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Prendi sta troia! Mamma mia! M'hanno dato il grasp. Ecco qua. Io ho back. Gli do un po' di ordine. Perché mi pingano? C'è successo? Puoi andare via? Lo foco alle tende. Non lo so, anche se non li ho. Lo foco alle tende, cazzo! Liel sul jungler. No, no, ce l'ho io, Liel. Cioè, nel senso che ho ai lato il jungler. Eh, l'ho voluto salvare. Ho voluto fare... Così. Metto un consiglio. Faremo care con Gianni. Di... Di cosa? Perdona l'ignoranza. Non ho capito. No, non ho preso gli oghi. Non ho preso gli oghi. Ah! Full sustain. Ah! Ah! Ah, non mi ha preso con la W. Pensavo mi tasse. Vabbè. Meglio così. Ah! Mangiamo le arance che fanno bene. Troia di merda. Oh, vabbè. Allora, non gli piazzo più i barili. Vediamo. Vai. Graspami tutto. Vai. Buon divertimento. Bella Italo! Un po' di tutto. Un po' un miscellenus. Diciamo così. Ti fa il guanto? Non saprei. Non penso faccia parte degli oggetti di cura suprema al guanto. Quindi mi sa di no. Però, se mai mi venisse voglia, valuterò. Mi serve uno stack. Dove? Dove? Scappa! Scappa! Che bello. Che bello tutto ciò. Che danni, ragazzi. Che danni. Si è spaventata. Ecco qua. Ah! Ti ho testo sotto torre tutto il tempo che vuoi. Tranquilla. Ah! Mmm. Eh! What? Uddio! Ah! Eh! Ah! Scappiamo, eh! Scappiamo, eh! Eh? È così che si fa... Ah! È così che si fa... Il GP dell'Ial, signori. Full sustain gangplank. Ah! 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 Bella Darkhammer, grazie mille bro del sub! Dammi il gras... Ah! Il grasp! Becca. Immagina il guanto che ogni Q slow ha. Ignite, ma l'ho buildato 50 volte il guanto su GP tanker. Lo so come funziona. Vai tranquillo. Mi stai sottovalutando. So benissimo cosa buildarmi. Oh my god, Miss Fortune noob. Sta partita è magica, ragazzi. Top continua a morire, 0-4. Cioè, 1-4, perdono. Tutto c'è bellissimo. C'è un non so che di magico. La gente ha questo elo. Vieni, troia, vieni! Dammi il grasp! Il grasp! Datemi il grasp! Ah! Ecco fatto. Ah! Datemi il grasp, signori! Datemelo tutto! Grazie. Ecco qua. Fu lì al GP, signori. È lui o non è lui? Porca troia se è lui. Porca troia se è lui. È lì al del GP. Tempo di fare il Mejai, ragazzi. È tempo di fare il Mejai. Beh, Trinda sta 1-4 contro Kenney 4-1, ma... È Trinda. Due bei crit e via. Picchia questi! Warwick! La torre! Warwick! Addio. Ah! Fu lì! Lì al Diga! Aiuto! Avevo la W. Non l'ho fatto in tempo ad usarla, purtroppo. Che ho usato io al barbie e a tutto. Basta morire! Ma se al minuto 14 sono 23 kill. Scappa! Scappa! Picchialo! Attaccalo! Ma perché non attacchi? Non fai qualcosa! Non correre in mezzo alla gente! Mamma mia! Che disastro! Che disastro! Fai l'onvraker! Se la neve vieni sotto casa vostra! Beh, adesso vi faccio redemption, diciamo. Ma fa il culo la neve! Non può piacervi! Dà soltanto fastidio! L'oggetto che non ti fa subire danno sotto la torre. Vai, o cos'è? Vi siete innamorati tutti dei l'onvraker adesso. Ma non manco quei attacchi basi faccio danno con nulla proprio. Troppo la torre è rimasta senza Capy Warrior che si era messo ad attaccare i minion. Allora! Ah, che gli dici? Nulla! Ma tanto cosa lo pingo a fare l'SS? Non mi frega un cazzo qui. Sì? Perché è così veloce? Ah, c'ha le scarpe complete e io no. Eh, vabbè. Cosa vogliono da me? Ah, perché stanno tutti morendo lì. Ah, ok. Dove esserci anch'io l'Eral da morire. Scusatemi ragazzi, scusatemi. La cosa bella è tipo farli pingare. Dovrei farli incazzare più spesso, così spam pingano. Sembra un'ottima idea. Sentite quanto pingano, sentiteli. Din, 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 din. Io con sta build di merda sto riuscendo ad andare un po' avanti con le tori almeno. Faccio qualcosa. Ah, un attimo che devo... Ah, farmare. Ok, ciao. Allora, adesso ci prendiamo sto cazzo di redemption. Dopo giochi poppy, ma mi sembra un po' forte come pick. Devo giocare qualcosa un po' più scarso, diciamo. Dunque, ci facciamo questo. Yellen shield power. Minchia, dà già shield power. Cioè, Leal questo. Va buono. Questo è buono. ZP. Evviva. Ah. Dopo hai Nasus AP, ma che stacca anche la Q. Perché dovrei fare una fusione così brutta? Cioè, posso farti Nasus AP che quando ho la Q la uso, ma tanto Max 3 la E, quindi non avrebbe molto senso in realtà. Tranquilli, tranquilli. Beh, loro pingano di continuo, ma non sanno cosa stanno pingando, è quella la verità. Non ne hanno proprio la minima idea. Non sanno per fare un po' il God. Cosa? Sta di... Sentili, sentili come pingano. Din, din, din. Din, din, din. Din, din, din. I nostri lati stanno continuando a morire lì. Qualche modo. Ecco qua. Tu ci saluti. Ah. Mamma mia. Tutto io sto facendo in questo team. Ma è bellissimo, ragazzi. Ma che GP vi sto portando? Che GP vi sto portando? Oddio. Eh no, eh. No, non mi mangiare. Ah. Aiuto. Meno male che la ult è già finita. Uh. No. Ah. Aiuto. Grasp. Curami tu. No. 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 Sto beitando tutti. Noi mi frega proprio un cazzo a loro il che succede. Ti ho un grito e basta. Bella passa. Mamma mia. Date Mr. Redemption qua. Perché se lo stesse chiedendo. Sì, ragazzi. Era anche da era anche da tranquilli. Ovviamente era anche da. Adesso sarebbe AP. Serve un Rabadone adesso. Ma sentili come pingano, ragazzi. Din, 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 din. Pin proprio. A spam. Spam pingano. Vigartank non mi piace. Oh, scusate. E lì lo è Iron 3. Ma va come fa le flessioni. Bravo. Ora gotta Scorpio ritardato. Mettiamo anche ritardato senza Scorpio. Grazie a mezzetto delle sub. Eh, eh. Mi tocca condividere se no vi rompere le palle con l'anniversario due punti. Vai tranquillo. Tanto ormai ci siamo abituati. Eccomi. No! Questo era troppo anche per me. Questo era troppo anche per me, purtroppo. PF full attack speed. Sì, mi fa cagare. Ecco. Mare. Proprio i miei teammates fanno un po' schifo. Quale mi posso buildare adesso? Questa è la domanda. Vediamo un po'. A me del danno frega poco. E basta curarmi. Forse è Rabadon. Potrei fare Rabadon così. Perché no? A me basta curarmi. Io ho trovato il mo- La leech bane è forte. Sì, ci sta. Magari dopo me la faccio. Vediamo. A me non interessa fare le kill. A me interessa fare l'uomo bait. E stava andando benissimo. Purtroppo sono troppo fidati i miei nemici. E questo è un problema. Io alla fine sto facendo il mio. Ecco qua. Non ho farmato nessuno. Ottima tattica. Dai, questi li farmo. Un attimo. Lo so che vorresti il mio aiuto. Però... Eccomi qua. Arrivo, ragazzi. Ah! Guardate che uomo bait. Ah! 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 Aiuto! Mamma mia! No, mi serve armor. Un lì mi distrugge. Mi serve armor. Non so a sto punto se farmi il gauntlet. Mi dà anche cooldown reduction che in realtà... Armor. La GA mi fa rinascere. Ce l'ho gargoyle stone plate. Ce l'ho un break, ma tanto a me non mi serve più. La glory? Mmm. No, non mi serve. La zonia? Questa mi serve. Questa è un ottimo acquisto. Very good. Come mai non ci ho pensato prima, mi chiedo? No, death will be their reward. Non gioco work full AP. Non mi piace. Ragazzi, voi non capite... Cosa vuol dire pick esotico. Hola, signor Anna è morta. Arriva, ragazzi! Ah, tanto lo perdono. Warwick smita. Lo smite, Warwick! Smita! Ma l'ha preso con un autoattacco. Non aveva lo smite. Tranquili, raga. Li tengo fermi io. Ci penso io. Ci penso io. Sparate all'orso! Sparate all'orso! È sparito. Ah! Eh! Quello è un po' fiddato, ragazzi. Ci vado? Vai. È un po' veloce, ragazzi. Vai, vai. Inseguiamolo, che trinda pusha. Inseguiamolo! Fiatelo! Brava, mi sforzo. Ottimo flash. Cesiamo, cesiamo. Attivato a doppio vuoto. Attenzione. Che bordello è successo. Ma io non ho ancora il cooldown reduction mazzato. Questo è il problema. Vabbè, che adesso io accio la zona. Ah! Ah! Vai. Ho affiato il grasso, ragazzi. Tranquilo. Ah! Ah! Eh! Ah! Eh! 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 Con molta calma. Adesso lasciamo tutto. Regà, voi non capite nulla di Pic Belli, comunque. Lasciate che ve lo dica senza offesa. Cioè, guardate cosa vi sto tirando fuori. Un T.E. Un GP completamente inutile, ma divertente. Cioè, divertimento e inutilità vanno a braccetto, in questo caso. Divertimento e inutilità. Ah! Guardate quanto sono, quanto sono divertente e inutile allo stesso tempo, ragazzi. Quanto sono divertente e inutile allo stesso tempo. Ah! Bello, Agostino. Che è successo? Tanto questo. Allora. 2003 costa. Mo' devo farmi anche l'altro. Però prima preferisco il cul d'arbaccio, sinceramente. Sembra tutto meno che divertente. Guardate che non è che la parte divertente... Cioè, la parte divertente non è fare le kill. Io non so voi come vi irritate l'olio, io non mi diverto soltanto a fare le kill. Anzi, dopo, se volete, faccio una partita a vincere senza attaccare le kill. Sì, qua. Sarevo in tre. No, manco l'assist ho preso. Eccomi qua. Cioè, io non so voi, ragazzi. Forse perché voi siete elo più basso e lo vedete in modo diverso, ma... A me non piace... Cioè, a me non piace, diciamo... Essere la divinità della partita. A me piace più essere il troll della partita. Cioè, non mi piace essere quello che prende tutte le kill. Quello fortissimo. Fraffizzato. Io mi diverto più così, con train da P, quelle cose del tipo... Che fanno i meme della partita. Capite? Vengo da YouTube, bella, bro. Benvenuto su Twitch, allora. Spero che la tua permanenza è in questo meraviglioso sito. Ti piaccia? Prendiamo sta... Statore, qua. Col main, ragazzi, sono platuno. Per chi non mi conoscesse, comunque. Allora. Cioè, vedete? Non faccio un cazzo di danno. Ma io non voglio fare danno. Non voglio... Non voglio giocare per shottare la gente. Voglio giocare per non essere shottato. Ah, ah, il grasso. Finacoli pendenti. Ottima idea. Oh. Ah. Ah. Non mi sforzo, non mi sono riuscita manco a fare la kill. Incredibile. Mi manca il din 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 della torre. A me no. Il vendere le guarde e non prenderne altre. Cosa vorrebbe dire? Cioè, vendere il trinket. Ah, non ho un trinket. Sono spariti... È sparito il trinket. Sono l'unica persona al mondo a non avere un trinket. Mi sento speciale. Prendiamo questo. Mi piace. Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo, adesso. Non esageriamo. Vai. Devo compensare il meggiare che ormai è sparito dalle 17-18 stack che avevo. Sta build è fantasmagorica. A me piace troppo. Ma vedete quanto tanko. Il problema è il mio... Cioè, il mio team non fa molto. Io mattone. Quindi ti chiedi che tu fai meno del tuo team. Ma è vero. Ma io almeno mi buildo per essere inutile. Prendete la guarda e li distrago io. Eccomi. Non avete più nulla da temere. Magna. La guarda ancora lì. Incredibile. Abbiamo vinto, ragazzi. Com'è possibile che ho vinto sta partita? Con sto gangplank totalmente inutile. In realtà non abbiamo ancora vinto. Adesso i miei alleati si ne vanno back e non pusciamo più. Cazzo. Ci avrei sperato un pochino l'ameno. guardate. Guardate che botte di tiro. È spaventatissimo, ragazzo. È spaventatissimo. Attenzione. Ci penso io. Che sono sti danni? Mi sfortuna. Mi ha preso il Viagra. Uh Dio. Uh Dio. Presto. Ah. Attenzione. Ah. Ah. Bella beat cheat. Ragazzi del resab, bro. Bentornato nella Fierix Army. Bentornato. Non so, mi sta piacendo troppo sta partita. È troppo autistica. È troppo stupida. Ecco. Morgana in linea retta. Bentornato nella Fierix Army, carissimo. Grazie del resab. Servirebbe con questi due oggetti, come si chiama? L'ingenious hunter. Quello che toglie il cooldown agli oggetti attivi. Bella staffi. Beh, Snafe, se vuoi giocare a Zeeland Support, giocalo. Di certo non lo giocherò io. Voglio essere... Speciale. Grazie, b-cheater, grazie. Carriere con Garen? Faccio buoni in Scorpio alla botte di volta in te, fidda? Mi fai carriere con Garen? Devi buildarti più danno di quello che ti buildi. Onesto. Ho finalmente un po' di idee. Mi hanno slowato, aiuto! Vado a pushare la botte. Vado a rendermi utile. Ah! Ah! Ho anche il potenziamento per la ulti. Incredibile! No, ragazzi! Prendete la ulti! Vado, vado! Vado! Prendiamo tutto! Ci sarebbe il Nexus? Però non penso di poter prendere il Nexus senza mine. Ma basta! Allora, va! Insomma, con sta roba qua! Basta! Non avevo più roba per curarti. Avevo finito tutto. Pronto e ben serio? 2003. Vai, facciamo così. Ecco, fatto. Beh, il Nexus è balla. Non l'avrei ucciso il Nexus. Almeno... Cioè, 3000 HP non li tiro giù con sta build. Faccio 130 di danno a colpo. Vai, VV. Penso, c'è... Attacca, non vuoi che ce la fai? C'è la GA. Minchia, ma la Witsand è fortissima. Cosa ho appena visto? Oddio. Si è compenetrato. Ma vuoi che con la Witsand è illegale, ragazzi? Ma è illegale! Ma è troppo forte la Witsand. È troppo forte la Witsand. Qua. Penso io. Morto adesso per minion. Spero più di te. Non riuscivo ad usarla, la Zonya, l'OV. Ma avevano tirato troppi stun. Non avevo la W. Ah, Zinda... E poi non è più tornato. Ah, ma avevano Zinda AFC. Ok.